Ci sono delle canzoni a cui bastano poche note per fartele tornare alla mente, canticchiandole anche per interi giorni. È sicuramente il caso di Walk Like an Egyptian, delle Bengals, gruppo californiano femminile degli anni Ottanta. Le Bengals, tutte minigonne hippie e pillo rock, iniziano a muovere i primi passi nel mondo musicale con l'album All Over The Place, che nonostante gli elogi della critica specializzata, vende poco. Sarà durante una tournée come gruppo di spalla di Cindy Looper che le ragazze iniziano a confrontarsi con un pubblico più vasto, che di lì a poco le avrebbe consacrate come nuove eroine. È infatti durante la promozione del loro primo album, nel 1986, che arriva in mano alle Bengals, un brano già proposto ma rifiutato da Tony Basil. La canzone si intitola Walk Like an Egyptian e verrà inserito nel loro secondo album, Different Light. È scritta da Liam Stemberg. Secondo un aneddoto, che come spesso avviene quando si parla di musica, ha il sapore un po' di leggenda, il brano lo scrive al volo, ispirato dalle persone che si muovevano goffamente per non perdere l'equilibrio su una barca. Il singolo è un successo assoluto. Se il 1986 è l'anno dell'esplosione commerciale delle Bengals, il 1987 è quello della definitiva consacrazione. Walk Like an Egyptian porta le Bengals al primo posto nelle classifiche americane, segnando l'apice della loro carriera. Le quattro ragazze riescono a creare un vero e proprio tormentone mondiale, grazie anche al divertente videoclip diretto da Gary Wise, che vedeva gli abitanti di una grande città camminare appunto come gli antichi egizi, dai pompieri ai lavavetri, passando grazie agli effetti speciali a celebrità come Lady Diana e simboli come la Statua della Libertà. Ma al di là delle facili ironie sul balletto e su un testo diciamocelo pieno di stereotipi e nonsense, la canzone rimane un pezzo pop ben costruito, un brano fuori dall'ordinario, con una melodia di immediata memorizzazione che sembra fatta apposta per essere fischiettata. Vicky Patterson, Michael Steele e Susanna Hoffs si dividono una strofa a testa, ma certamente quest'ultimo a rubare la scena alle compagne, nel video girato e perennemente trasmesso su MTV. La canzone arriva in vetta a Billboard e vi rimane per quattro settimane consecutive e risulterà essere il singolo più venduto in America dell'intero 1987. Grazie a questo enorme successo mondiale le Bengals ottengono un Brit Awards come miglior gruppo internazionale dell'anno. Anche Different Light, il disco in cui è inserita la hit, se la cava alla grande, raggiungendo il triplo platino negli USA e uno anche in Gran Bretagna. Il successo stravolge inevitabilmente la vita delle ragazze, facendo emergere anche le prime invidie e nel 1989 lo sceglimento del gruppo è inevitabile. Dovremmo aspettare il nuovo millennio per rivederle insieme, ma dopo più di 30 anni, Work Like an Egyptian rimane una delle canzoni più rappresentative non solo del gruppo, ma anche degli interi anni Ottanta.